E rieccoci qua, come promesso, ben trovati e bentornati. Ciao a tutti, come andiamo? Sono Clionart e oggi siamo sul nuovo episodio della serie di Final Fantasy 10 di Mastering in HB. Dunque, abbiamo fatto un po' di esercizio con tutti quanti i nostri cari personaggi qui. Alcuni hanno avuto più livelli, altri un po' di meno, ma è incompensibile, perché ogni uno ha un livello di esperienza accumulata diverso dagli altri. E adesso entriamo qui al Guado Salam. Abbiamo stato aspettato te, Lady Yuna. Benvenuti al Guado Salam. Buon try, e companion. Ah-ah… me? Oh, oh, e Yinuanто! Perché io sono a riapposizione. Sono immediatamente Trommel Guado. Sto in parte di servizio della nostra una grande forte Simor Guado. Le Lord Simor ha un'obiettone fissile con you, Adia Yuna. Com'è un'obiettone? 這樣子 fissate io. Perchè, venite dentro la maniera. Tutti che saranno spiegati. Ovviamente, i vostri amici sono anche benvenuti. Ti stai spiegando i nostri armati, non? Ah, ho scoperto. Alla prossima, amici. Diccio pece. Diccio tutte le cose, non c'erano. Un cos'credito, non c'erano. Adesso che anche il tutorial di Riku su come modificare le armi che abbiamo è completato, possiamo sperimentare per conto nostro. Grazie a tutti. 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 e tutti. . . . , . . , , . , , , , . ,... , , , , , , , Questa sphera è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono il faro. Questa sphera è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa sphera è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è una ricostruzione creata da pensi dei morti che muovono. Questa è un uomo. Wow, il tuo viso è rosso! Sei ok? Il... Il me ha chiesto di marci. Sei vero? uh hey you know what Yuna must do of course Lady Yuna no, all summoners are charged with bringing peace to Spira but this means more than just defeating Sin she must ease the suffering of all Spira she must be a leader for the people I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon Spira is no playhouse a moment's diversion may amuse an audience but it changes nothing even so the actors must play their parts there's no need to answer right away please, think it over we will do so then we leave Lady Yuna I await your favourable reply why are you still here, sir? I beg your pardon we Guado are keen to the scent of the far plane cware I want you to who you are as always as always where they eat and they try Grazie a tutti.